Si chiama Ingebjorg Blindheim, è una ragazza della Norvegia, ha 22 anni di età e pensate che sfrutta il suo account su Instagram per dare supporto a quelle persone che vogliono ammazzarsi, che vogliono togliersi la vita. La ragazza utilizza la chat di Instagram per consentire infatti a chi lo desidera di sfogarsi, di parlare dei propri problemi, fornendo attraverso proprio la chat ascolto e del conforto. E il suo scopo però è sempre quello, aiutare chi vuole farla finita a compiere l'estremo gesto. Un'azione che io reputo assurda, sbagliata, schifosa e non corretta. Ma la ragazza sembra essere piuttosto convinta e prosegue nel suo impecchio che va avanti senza sosta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Al prossimo video da Narratore Italiano.